Una nuova rete a Genova volta a rafforzare un modello virtuoso di ascolto, informazione e supporto alla cittadinanza nell'ambito dei servizi sanitari e in particolare ci riferiamo ai servizi domiciliari socioassistenziali integrati. Qui su Babboleo News approfondiamo meglio la collaborazione tra Federfarma Genova e Villa Basilea nella vocazione più specifica legata alla Noi con voi Genova che si occupa proprio di domiciliarità. Edoardo Schenardi per Federfarma, ringrazio entrambi anche Daniele Pallavicini che è responsabile domiciliarità proprio di Noi con voi Genova. Parto con Daniele Pallavicini, la rete di Federfarma credo anche che per voi possa essere motivo d'orgoglio, vi ha scelto dopo il buon lavoro che avete fatto negli ultimi anni senz'altro sul fronte della domiciliarità che c'è questa nuova sfida che volete insieme provare a vincere, cioè informare meglio la cittadinanza su quello che è un tema oggi effettivamente anche per il territorio genovese Ligure molto delicato e complesso. È così? Sì, assolutamente sì. Intanto buongiorno Matteo, grazie della disponibilità sempre per dare queste informazioni importanti a tutti i cittadini. È così, con il dottor Schenardi, l'amico Edoardo e con la struttura di Federfarma abbiamo condiviso questo percorso, questa iniziativa di creare una rete capillare sul territorio di Genova tramite una struttura storica come Villa Vasilia e una realtà consolidata come Federfarma che rappresenta oggi un buon numero di farmacie, circa 300, quindi per noi è importante... 304, se non erro nello specifico? 304, esatto, quindi per noi pensare di aprire questa rete di informazione, ascolto, tutela e anche di erogare delle prestazioni a favore della cittadinanza fragile per mezzo di punti di presidio come le farmacie è motivo per noi di orgoglio perché comunque tra significare fino ad oggi crediamo di aver fatto un buon lavoro. Lavorare con Federfarma e nello specifico con le farmacie genovesi, quelle chiaramente le farmacie comunali, per noi è un vero valore aggiunto perché riusciamo a raggiungere punti della città che diversamente non saremo in grado di poterci arrivare e di essere sempre lì a dare delle risposte concrete e attive a tutti i cittadini fragili. Un'opportunità per direi entrambe le realtà e sicuramente lo è per la cittadinanza genovese, come dicevamo insomma si tratta di un settore che è in evoluzione ma che è spesso soggetto anche a situazioni poco chiare che si possono venire a creare, cioè se laddove non c'è un supporto, un seguito da parte di strutture che professionalmente portano avanti l'assistenza domiciliare e quant'altro e le cure, insomma si va incontro anche a scivoloni pericolosi. Questo è l'obiettivo un po' di tutelare la cittadinanza. Di tutelare la cittadinanza e anche di essere pronti ad essere noi strutture, noi residenze, coloro che poi riusciranno a derogare anche le prestazioni domiciliari dei miei colleghi, mi auspito che questo avvenga perché ci sono tante aree di Genova, soprattutto anche nell'entroterra. Purtroppo i servizi pubblici non arrivano, quindi il servizio sanitario nazionale non riesce a raggiungere e spingersi così avanti e insomma è un'integrazione positiva questa. È un'integrazione sul territorio positivista. Certo, certo. Ricordo per chi ci ascolta che qui su Babboleonews siamo in compagnia di Daniele Pallavicini che è responsabile domiciliarità per la rete di Villa Basilea, la Noi Convoi Genova, e Edoardo Schenardi di Federfarma. Ecco, Edoardo, farmacie di Federfarma, 304 su territorio. Nelle farmacie, io nel mentre anche per chi ci segue attraverso i nostri canali in diretta Facebook, mostravo quello che era poi anche il lopuscolo, o meglio, la locandina che segnala il punto di ascolto, anche di informazione. Poi ovviamente verranno diffusi materiali, distribuirete anche attraverso i canali web un'informativa che va sicuramente ad integrare già quello che è il servizio importante che svolgono le farmacie di Federfarma per il vostro circuito su Genova. Ed è un po' la vocazione che avete intrapreso sostanzialmente anche con la app Farmacia Vicina, cioè fare da presidio per i cittadini. I genovesi, i momenti che possono essere di criticità e la necessità è, oltre a fornire un servizio certificato. Molto spesso a noi viene fatta una richiesta, magari anche con urgenza, di trovare qualcuno che sia in grado di erogare i servizi, banalmente da un'iniezione al supporto di qualcuno che è stato appena dimesso dall'ospedale. Molto spesso la criticità non riuscivamo a risolverla perché piuttosto che dare un numero di telefono che magari avevamo di passaggio senza sapere quale fosse il curriculum della persona che mandavamo in casa perché il dato fondamentale è che dal momento in cui segnaliamo qualcuno ci prendiamo la responsabilità di mettere qualcuno in una situazione di supporto a un paziente che molto probabilmente sta generando uno stato di preoccupazione e di ansia in tutta la famiglia. Quindi mentre prima la scelta era su determinate situazioni di non prendere posizione piuttosto che sbagliare, adesso con il supporto di Villa Basilea le farmacie sono tranquille e sicure di poter fornire un servizio all'altezza e soprattutto un servizio affidabile da persone che lo fanno come professione. Perché purtroppo non dimentichiamoci che c'è qualcuno che si inventa un mestiere con tutto quello che può comportare. Se va bene siamo tutti felici, se non va bene escono fuori dei problemi ancora più grandi di cui noi possiamo essere tramite. È chiaro che l'obiettivo è fornire ai 35.000 genovesi che ogni giorno entrano in farmacia un supporto che permetta se c'è bisogno di essere sicuri anche su questo argomento in modo da non incorrere in perdite di tempo se va bene, altrimenti perdite di denaro o non servizi corretti. Certo, certo. Si amplia anche il vostro spettro di contatto con la cittadinanza. La vostra vocazione era così dalla vicina, nel senso che i vostri 5 sportelli continuano, sono attivi sul territorio. Siamo partiti con i 5 sportelli, oggi motivo per cui, e riprendo un po' le parole del dottor Schenardi, della qualità. La Basilea oggi ha ottenuto l'autorizzazione al funzionamento per le cure domiciliari, anche quelle sanitarie. Siamo una delle poche strutture su Genova che lo ha tenuto e quindi questo è anche motivo, vuol dire, di una reciproca garanzia, cioè di non essere improvvisati su un settore e quindi di erogare delle prestazioni così capestri che alle volte fanno più danno che altre. Certo, certo. La professionalità, lo ripetiamo, in un settore come questo è fondamentale. Io mi resta altro che augurare un buon lavoro a entrambe le realtà perché proseguono le vostre attività e anche questa attività nello specifico sinergica significativa. Edoardo Schenardi, Federfarma Genova, Daniele Pallavicini, responsabile dei servizi domiciliari di Noi Convoi Genova, Villa Basilea. Grazie a entrambi a risentirci. Grazie a voi. Matteo Rovere, Babboleo News. Cosa succede in Liguria? Il mondo capovolto viaggi? Allora ti sposi. Esiste un solo mondo a Genova dove...